E poi a un certo punto arriva la storia di Martina, anche lei mi scrive alla mail di LOL Prof e mi racconta dei suoi anni, dei suoi primi anni di scuola, quelli in cui non riusciva proprio ad andarci, le veniva male le ossa, le veniva la nausea, le veniva mal di testa, cioè manifestava un disagio fisico molto importante al punto da non riuscire proprio ad andare a scuola. Lei dice a un certo punto che non c'era nessuno attorno a lei che credesse a quello che le stava succedendo, a quello che stava provando dentro, allo strappo che sentiva dentro e che le parole erano indelebili come un tatuaggio, questo è il titolo del capitolo. E tra le altre cose io le ho detto questo. In generale credo che noi insegnanti, i genitori, gli adulti in generale, dobbiamo sempre tenere a mente una cosa, che i bambini imparano imitandoci, crescono e si formano anche grazie al nostro appoggio, al nostro aiuto, alla nostra disponibilità nel volerli accompagnare durante la realizzazione dei loro sogni, anche quando sappiamo che probabilmente non si avvereranno, ma non abbiamo il diritto di distruggerli, abbiamo anzi il dovere di crederci insieme a loro. E se questo non accade, se li lasciamo soli, qualcuno di loro purtroppo si rassegnerà alla prospettiva di non poter avere un futuro felice, si convincerà di non aver nessuno attorno che creda in lui e a volte preferirà andarsene.